Ben trovati, ben trovate da Andrea Cartotto. Il videocorso di oggi lo dedico ad un'attività tanto semplice quanto efficacissima da un punto di vista didattico. Vi mostro con Adobe Spark, ma in realtà, poiché ho già parlato di Adobe Spark, vi mostro come con Spark Page sia possibile far creare o creare una presentazione, ma non la solita come la immaginiamo. I nostri contenuti in formato pagina web, cioè la pagina di un sito internet creata con le nostre mani, pubblicata gratuitamente con testi, immagini, video, addirittura un pulsante su cui cliccare per un approfondimento. Allora, web application, non si installa niente, requisito il collegamento ad internet, sito di riferimento spark.adobe.com, per entrare un clic in alto a destra su accedi. Procediamo con continua con Google, un clic, ma ci sono anche altre modalità. Il mio browser Google Chrome avrà in memoria il mio account personale Gmail e dunque in questo caso mi fa entrare benissimo anche l'account scolastico Google Suite o mail alternativa secondo quanto avete visto. Sul mio canale YouTube Trainer Andrea appunto, trovate e cercatelo il videocorso di Adobe Spark Video. Vedrete altra bella funzione per lo storytelling. Oggi e qui noi ci concentriamo su presentazione. Ed è bellissimo e variegato il mondo di Adobe Spark. Ecco, immaginiamo e ora lo arricchiamo il nostro contenuto qui a scorrimento verticale in formato pagina web. Vi propongo un contenuto dedicato alla Costituzione italiana, per esempio. Quindi clicco su aggiungi un titolo e io vado a titolare la Costituzione della Repubblica italiana. Clicco su aggiungi un sottotitolo e digito. Principi fondamentali commentati. Questo grigio con un clic e in realtà ve lo mostro in particolare a questa altezza potrebbe essere sostituito da una foto. Però in realtà ci concentriamo su altro, cioè sulla possibilità mediante il più, vedete che ha uno scorrimento verticale, di scegliere addirittura se implementare una foto, un testo, un pulsante, un video. Io mi concentro su Layout suddiviso, perché così ho la pagina subito divisa in due. Con questa freccina addirittura, anche se mi pento e debbo fare modifiche, inverto la sinistra con la destra. Però a me sta bene così, perché io cliccando a sinistra voglio aggiungere con carica la foto, la copertina ad esempio, in formato immagine, di una edizione della Costituzione, nel mio caso tratta dal sito del Senato della Repubblica. Quindi un bel clic su apri, la mia copertina è pronta. A destra mi occorre riportare in formato testo. Un estratto, insomma, prendo i primi tre articoli, dei principi fondamentali. Questo riquadro scuro che mi è servito prima lo chiudo con X. Adesso, sempre e tra virgolette casualmente, come dicono nelle ricette di cucina, io ho tenuto aperte alcune schede nel browser che ci serviranno ora. La prima è una pagina web tratta da un sito di natura giuridica che riporta, mi sono piaciuti per la leggibilità, gli articoli. Io seleziono dall'1 al 3, voilà, clic con il tasto destro sopra, quindi apro il mio menu di dialogo e poi confermo con un clic su copia. Ricordiamoci e intanto torno sulla scheda di Adobe Spark Page che dopo aver fatto copia, l'unica via è in colla. Per cui clicco sul più, clicco sulla T di testo, il cursore lampeggia e mi indica la direzione, per cui clicco con il tasto destro e clicco tasto sinistro su incolla. Il bello, oltre alla facilità e velocità, è che io posso formattarlo il mio testo, cioè abbellirlo. Quindi io seleziono ancora il mio articolo 1. Se voglio un bel grassetto, ho questa barra degli strumenti a scomparsa che mostra la B, che sta per bold e che è il grassetto per l'appunto. Qui potrei intervenire, andare a capo, con il tasto sopra l'invio, cioè la gomma o backspace, ridurre gli spazi. Lo lascio a voi. Per cui copertina e testo. Bene, sì, mi può piacere. Ecco qui in basso, vedete che appena scorro, ho le diverse opzioni. Vorrei un bel video che mi commenti la costituzione. Allora clicco. Questo riquadro mi dice che attende che io riporti l'indirizzo, l'URL di un video prelevato da YouTube o Vimeo e io infatti, sempre casualmente, avevo aperto una scheda del browser con YouTube, utilizzato come parole chiave costituzione italiana e scoperto, tra l'altro ve lo consiglio, questo video interessante tratto da Treccani Scuola Canale. Per cui, bene, l'indirizzo lo seleziono in blu, verifico se già non lo sia, tasto destro, un clic tasto sinistro su Copie, torno su Spark Page e ripeto un'operazione già svolta in precedenza. Quella cioè di guardare che ci sia il cursore, c'è, tasto destro, un clic su Incolla e a questo punto un clic su Salva e do la mia anteprima. Numerosi vantaggi, uno dei vari facendo questo è che io mi sto sempre appoggiando a YouTube, dunque non ho nemmeno peso circa il mio filmato. Ecco, a degna conclusione di questo bel lavoro, guardate e pensate poi come diventa bella e ricca questa pagina web. Potrei farne una per disciplina, una per argomento, ne faccio fare una a ciascun alunno, a noi e a voi la scelta. A questo punto, qui sotto, sempre scorrendo con il mouse, mi piacerebbe avere un pulsante che cliccato riportasse al testo integrale della Costituzione. Lo faccio, testo pulsante, bene, io scrivo, clic qui per il testo integrale della Costituzione. Ok, il pulsante dove lo voglio rispetto alla pagina? Al centro, siamo in allineamento. Ecco, dove c'è in trasparenza il www andrà l'indirizzo internet a cui voglio arrivare dopo il clic del pulsante, per cui non faccio altro che riportare l'url, eccolo qui, della pagina web che mi ero aperto in precedenza. Quindi lo seleziono, clic tasto destro, tasto sinistro su copia, molto bene, un clic che torna al mio Spark Page, c'è il cursore? Sì, quindi posso incollare, tasto destro, incolla. A questo punto verifico che l'indirizzo sia riportato correttamente, un clic su salva. Verifichiamo un attimino, se l'indirizzo non venisse eventualmente preso in primo acchito, potrebbe essere o troppo lungo, dunque va cambiato, oppure lo posso accorciare con altra tecnica che vedete in uno dei miei video corsi qui sul canale, con Bitly. Vi ricordate Bitly? Lo vogliamo fare un attimo al volo? Allora io apro una scheda in più del mio browser, digito Bitly, un clic, ripeto non vi preoccupate, ho dedicato un video corso proprio a questa sola operazione, nella mia bella riga bianca, tasto destro, incolla, chiudiamo questa pubblicità, io clicco su shorten, per cui accorcio e asciugo subito l'indirizzo, guardate come è diventato piccolino, clic su copy e vorrà dire che uso l'indirizzo corto. Il digitale è così, cioè è cross mediale, nel senso che si interseca le risorse digitali, si parlano. Allora a questo punto dove c'era il mio www, lo faccio contento, tasto destro, un clic su incolla, un clic su salva, diamo un attimino, se a questo punto gli piace o meno, per cui me lo vado a perfezionare ancora, ed eccolo qua. Con un clic su salva, non ho fatto niente di che, guardate ho solo ripetuto due volte la medesima operazione. Quando lavorate con una web application può succedere. Vedete? Pulsante semplicissimo, ma con un clic poi il visitatore apre il sito di riferimento. Con un clic su anteprima o presenta, io vedrei l'effetto finale, guardiamolo un secondo, clic sul triangolino, guardate che bello, anche agli occhi di noi docenti. Che bel lavoro! Una pagina web, dinamica, funzionerebbe anche sullo schermo touch di un tablet o di uno smartphone. Scorro, c'è il mio video, con un clic andrebbe in riproduzione. Voilà, eccolo qui. Adesso io chiudo con la X. Tutto bene, allora chiudo con la X che appare in alto, esco dallo schermo intero, dai concludiamo, esportiamo. In realtà il tasto per noi è condividi, un clic. Poi trovo pubblica e condividi collegamento, clic. A questo punto il titolo, lui lo preleva dal titolo che ho inserito in alto, ma è a nostro piacere. In che categoria rientra questo nostro lavoro? Istruzione. L'autore voglio che figuri? Sì, perché no? Clic e accendo l'interruttore. Questo spazio ringraziamenti foto è quello che nel gergo del web chiamiamo spazio per i crediti o credits. Riporto una, anche essenziale, bibliografia o sitografia. Dopodiché, per mantenere il mio lavoro privato e non facente parte dei lavori all'interno del sito web di Adobe Spark, con un clic spengo questo interruttore, clicco il tasto grigio crea collegamento e 1, 2, 3, voilà. Questo url, questo indirizzo che abbiamo qui in cima, e posso copiarlo, è l'indirizzo che io vado a inserire in classroom, me lo annoto in un documento di testo, lo tengo come rubrica dei miei indirizzi web. Insomma, mi consente, e consente a chiunque lo abbia, di visualizzare il nostro lavoro. Dunque, a voi ora la palla e la prova su strada, come mi piace chiamarla. Spero vi sia stato utile anche questo videocorso. Ti ringrazio come sempre per essere così numerosi a seguirmi con stima. Ci vediamo con il prossimo videocorso e non vi svelo quale sarà l'argomento. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto.